ed eccoci di nuovo qui fatevi avvolgere da una nuova affascinante avventura che vi accompagna alla scoperta di esperienze sensazionali esperienze di vita di persone come me e voi che sono diventate leggenda verrete trasportati dalla storia di quest'anno tra le vite di quattro persone meravigliose incontrerete pirati spavaldi e perfino sovrani gocentici beh chissà chi conosceremo però sarà un'avventura unica che ci farà immergere appieno in un mondo tutto da scoprire non potremo certo starci negli seduti moji dovremo alzarci e correre per partecipare il grest di quest'anno indovina chi non c'è santo che tenga proveranno a dirti chi sei per tutta la vita tu reclama il tuo spazio e dimostra chi sei davvero se vuoi che ti guardino diversamente datti da fare se vuoi che le cose cambino devi riuscire a cambiarle tu stessa perché al mondo non esistono fate madrine